Non si parlava certo di grandi cifre, ma quei 300.000 euro rappresentavano, almeno per una volta, un segnale della politica verso i più fragili. Segnale che invece è stato cancellato con un veloce colpo di spugna. Tra i tagli venuti fuori dalla settimana di votazione in Commissione Bilancio all'Assemblea regionale siciliana, infatti, viene fuori proprio la voce di spesa che garantiva un contributo alle donne che desiderano acquistare una parrucca per camuffare gli effetti della chemioterapia. E così la scura dei tagli indiscriminati va a colpire proprio chi dovrebbe essere più salvaguardato, le donne malate di cancro. Non è un caso che negli ultimi due anni la regione, su proposta del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, avesse stanziato circa 300.000 euro per finanziare l'acquisto delle parrucche per le pazienti con redditi bassi. Eppure, nel nuovo testo della finanziaria, il contributo è stato ridotto a zero. Un taglio che fa male e che fa infuriare proprio i parlamentari grillini, che tanto avevano spinto per far sì che quei fondi arrivassero alle donne in chemioterapia, e che tra l'altro denunciano un ritardo di due anni nell'emanazione del bando per assegnare alle pazienti questi aiuti. In pratica, mentre per il 2024 i fondi non ci sono più, quelli del 2022 non sono ancora stati erogati. Questo governo regionale, con in capo il presidente Schifani, continua a correre perché vogliono approvare nel più breve tempo possibile la finanziaria. Il discorso è che nel frattempo che corrono stanno dimenticando tantissimi capitoli a zero. Uno tra tutti, importantissimo, quello che riguarda le parrucche oncologiche. Un diritto che noi abbiamo inserito come Movimento 5 Stelle due anni fa, con 300 mila euro circa. Oltre il danno la beffa, perché ancora il bando non è pubblico, quindi i fondi ancora del 2022 non sono stati spesi e tagliano i fondi per il 2024. Noi questo non lo permetteremo e continueremo ad insistere affinché venga fatta una finanziaria vicino ai più deboli, vicino ai siciliani. L'assessore all'economia Marco Falcone intanto si è detto subito disponibile a ripristinare il contributo con un emendamento del governo nel momento in cui verranno votate le tabelle finali della finanziaria. Ad oggi però, per le pazienti oncologiche, i fondi non ci sono più.